Preso con oltre 10 chili di eroina dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montesilvano, che hanno effettuato dei controlli nel quartiere Rancitelli a Pescara. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza i carabinieri, nell'ambito di un mirato servizio d'osservazione, avevano notato un sospetto a nirivieni di persone nei pressi dell'abitazione della persona poi arrestata, che si muoveva con fare circospetto, fermandosi continuamente e guardandosi intorno. Per tali ragioni i militari hanno effettuato una perquisizione all'interno dell'appartamento, trovando abilmente occultati all'interno di una stanza due bursoni da calcio contenenti 24 involucri di cellofan termosaldati, contenenti della sostanza stupefacente e poi rivelatasi eroina, per un totale complessivo di 10,5 kg. L'uomo è stato portato nella casa circondariale di Pescara a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dello svolgimento dell'udienza di convalida.